TATUATORI IN CUCINA TATUATORI IN CANTINA Eccoci qua, siccome come ha detto Kila non sa farla mangiare, allora farò da bere, preparerò uno spritz, prendiamo due bicchieri a caso, due perché siamo in due, eccoli qua. Allora per prima cosa prendiamo anche il prosecco e lo apriamo, lo apriamo ci aiuterà il nostro aiutante. Apriamo il prosecco, mi raccomando che sia il prosecco. Eccolo qua. Mettiamo un po' di prosecco. Un po' di prosecco quanto basta. Poi ci aggiungiamo l'aperl. E poi un po' di acqua gasata, poca perché l'acqua va bene poca. Non fa ghiaccio niente perché è fuori stagione. E poi una fettina di limone. Perché la rancia fa troppo chic, allora preferiamo mettere una fettina di limone. Mezza fettina di limone. Se riusciamo a prenderla. Ecco qua. Ed è pronto lo spritz. Scoi. Poca acqua perché l'acqua smarcisse i pai. Poca acqua perché l'acqua smarcisse i pai.